buongiorno a tutti domenica 4 febbraio 2018 ci troviamo al nuovo di via olimpia di casseffrentano per una gara importante del campionato provinciale categoria allievi girone chieti oggi si giocherà la gara virtus casseffrentano contro il miglianico calcio il miglianico calcio sta ottenendo buoni risultati anche noi non siamo da meno oggi sicuramente sarà una gara molto accesa molto combattuta noi che da sportivi diciamo che vinca il migliore qua c'è il blocco dei titolari degli undici titolari che scenderanno dal primo minuto in campo si stanno riscaldando con degli esercizi suggeriti da mister gabriele di felice che anche il nostro coordinatore tecnico della scuola calcio settore giovanile oggi farà il suo esordio dal primo minuto karan singh con il numero 3 in quanto all'ultimo momento si è sostituito è stato sostituito lorenzo cuniberti che doveva giocare con la maglia numero 3 oggi però è stato squalificato ieri nella è stato espulso doppia somma di ammunizioni ieri nella gara a ortona dei giovanissimi a quest'altro lato ci sono i due portieri col numero 12 domenico castelliti col numero 1 matteo d'ottavio qua c'è il blocco dei ragazzi che partiranno dalla panchina qua c'è nicolò col numero 16 e col numero 17 c'è luca rulli che ieri è luca rulli il nostro goleador del della squadra della squadra dei giovanissimi qua c'è match c'è anche andrea col numero 18 c'è l'ensetto col numero mi pare 13 l'ensetto 13 qua abbiamo il nostro valido dirigente e consigliere collega adriano giancristoforo qua c'è il nostro mister mancini francesco qua ci sono i ragazzi del miglianico calcio con la tenuta giallo blu con colore giallo prevalente sono partiti da miglianico sicuramente molto prima che si svegliassero i nostri calciatori per raggiungere in tempo il terreno di gioco là in fondo c'è il direttore di gara il signor dercole della sezione aia di lanciano ma ci sono i ragazzi lasciandici il campo ma non vedo il terreno il tuo padre non è tutto un